La giornalista Gaia Tortora, il 20 marzo, sarà presente alla Pinacoteca di Ascoli Piceno per presentare il suo recente libro Testa alta e avanti, in cui racconta la sua storia. L'iniziativa è realizzata dai Lions Club Colli Truentini, presiduto da Eliana Bagnoni, nostra ospite. Sì, dunque siamo qui per presentare appunto questo service, questa manifestazione che abbiamo organizzato per il 20 di marzo perché abbiamo voluto invitare la giornalista Gaia Tortora in quanto figlia di Enzo Tortora, famoso volto televisivo degli anni Ottanta che fu vittima di un errore giudiziario, forse il più clamoroso e forse il primo in Italia ad avere tanto clamore. Noi avevamo, grazie alla nostra socia Anna Rita Carpani, avevamo letto questo libro e quindi ci siamo interessati, lei si è interessata a contattarla e dopo varie, perché abbiamo dovuto incastrare anche, essendo una giornalista impegnata in televisione, abbiamo dovuto incastrare i suoi impegni con le nostre date. Quindi diciamo che sotto l'aspetto organizzativo è stato quello più impegnativo. Gaia Tortora praticamente parla della sua storia, di come questa storia ha cambiato la sua vita. Abbiamo pensato di trattare questo argomento perché potrebbe interessare tutti, perché gli errori giudiziari vengono fatti. Si stimano circa sette errori giudiziari all'anno con conseguente innocenti in carcere. Quindi ritengo che siamo tutti, nessuno di noi è escluso, quindi potremmo incapparci tutti in questo errore. E quindi dovremmo sensibilizzare e questo problema dovrebbe farci riflettere. Grazie. Grazie. Grazie.